Se segui Gesù, perché hai paura? Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici! Accogliamo con grande gioia il Vangelo di oggi, che è Matteo 8, 23, 27. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i Suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo, «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro, «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande boraccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano, «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato un episodio molto importante. Qualche versetto prima di questo fatto, Gesù aveva detto ai Suoi discepoli, «Seguitemi, andiamo dall'altra parte del lago». E ha scelto una barca per andare in quella direzione. Quindi vediamo che questo episodio è fondamentale per noi, che siamo cristiani, che stiamo seguendo Gesù. Perché è Gesù che ci sta portando dall'altra riva ed è cosciente di ciò che accadrà e vuole metterci alla prova. Ecco che i discepoli salgono insieme a Gesù sulla barca e lo seguono. Essere cristiani, quindi, non significa pregare Cristo soltanto, ma seguire Cristo, dove Lui ci porta. essere cristiani è un'azione attiva, non è passiva, non è una routine, è mettere la nostra fede in atto. Ecco che salgono e poco dopo Gesù si addormenta e avviene nel mare un grande sconvolgimento. La barca era coperta dalle onde. I discepoli vedono la situazione molto brutta, molto dura, molto difficile e intravedono il peggio, cioè cadere nel mare, nel mare di Galilea, e morire annegati per l'impeto di questo mare, di questa tempesta. Che cosa fanno? Vanno da Gesù e gridano Gesù svegliati, stiamo morendo, tra poco non ci saremo più, affogheremo. Gesù cosa risponde? Perché avete paura, gente di poca fede? Gesù sapeva ciò che sarebbe accaduto. Gesù dormiva non solo perché era stanco, tra l'altro non sappiamo se davvero dormiva coscientemente o sonnecchiava con gli occhi semi aperti per vedere come si comportavano i suoi discepoli. Il fatto sta che risponde loro perché avete paura. Nella nostra barca, nella nostra vita quante volte noi abbiamo lasciato entrare Gesù ma fissiamo il nostro sguardo non su di Lui bensì sulla tempesta, sul mare agitato, sulle onde e sull'acqua che sta entrando nella nostra barca e quasi affonda. Gesù vuole dare una lezione ai suoi discepoli ma anche a noi oggi. La fede è qualcosa di attivo. La fede è attivare il nostro spirito, la nostra mente in una situazione difficile puntando i nostri occhi, fissando il nostro sguardo non sulla tempesta, non sull'acqua che entra, sulle onde che vengono nella barca, bensì su Gesù. Avere fiducia che Gesù ha autorità, che Gesù è Dio, che Gesù ha la capacità di stravolgere la situazione tanto che si alza, minaccia i venti e il mare e in poco tempo si fa grande bonaccia. Tutto è nella pace, tutto ritorna alla normalità. Gesù ha autorità e oggi bussa alla porta del tuo cuore, della tua vita dicendo carissimo, carissima, credi in me dove vuoi fissare il tuo sguardo, sul tuo problema, sulla tua situazione irresolvibile o su di me che sono Dio che ho ogni potere nei cieli e sulla terra, che risposta diamo? È Gesù che chiede perché avete paura, gente di poca fede. Io poi l'ho trasformato in uno slogan di oggi, ma non sono io che dico perché avete paura. perché hai paura se stai seguendo Gesù. È chiaro la risposta. La risposta è perché c'è la tempesta, perché c'è un problema, perché c'è una crisi, perché sono un uomo. Allora, in base a come stiamo vivendo, alla disciplina di fede che abbiamo nella nostra vita, quanta importanza diamo a Gesù, alla sua parola, alla sua autorità, ci sarà la nostra risposta. Allora, classificherei i cristiani in tre tipologie. Una tipologia che, quando Gesù dice saliamo sulla barca, andiamo di là, alcuni rimangono sulla riva e vedono Gesù con gli altri discepoli entrare nel lago e poi vedono la tempesta da lontano. Questi che sono rimasti sulla riva che dicono noi seguiamo Gesù a parole, in realtà si sono staccati, hanno scelto una vita marginalmente di fede, perché poi criticano. Guarda Gesù cosa sta facendo, li sta portando alla morte, alla tempesta. Guarda, c'è critica, c'è brontolamento, c'è accusa, c'è giudizio verso di Dio, verso gli altri. Questi sono alcuni cristiani al giorno di oggi i quali non fanno nessun passo se non il passo della lingua, di brontolare, di giudicare. Poi un'altra categoria sono quelli che seguono Gesù, salgono sulla barca, quando arriva il problema fissano gli occhi sul problema. dicendo aiuto, 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 Gesù salvaci, fa qualcosa. Pur avendo seguito Gesù non si fidano di Lui. E infine la terza categoria è quella a cui siamo chiamati noi oggi la più difficile, ma con lo Spirito Santo non sarà difficile. Seguiamo Gesù sulla barca, arriva la tempesta guardiamo a Gesù. Sentiamo le onde destra, sinistra, tutto ciò che sta accadendo, lo sconvolgimento che c'è e noi diciamo Gesù tu sei il Signore, io ho fiducia in te, ho fiducia che tutto è nelle tue mani, la situazione è sotto controllo tuo, non della natura, non di ciò che sta accadendo. ecco l'importanza fratelli e sorelle di credere in Gesù, l'importanza di essere questa categoria di cristiani i quali, come Gesù ci ha detto, non lasciano entrare la paura anche se è naturale. Dio ti chiama a vivere la tua vita naturale in un modo soprannaturale, cioè dove tu hai fiducia che Lui ha autorità, perché Dio sta sopra tutto ciò che noi viviamo, tutte quelle situazioni che si toccano, che si vedono, Dio è al di là, al di sopra, ma ha autorità. Non è perché non si vede che non può intervenire, è proprio perché non si vede, magari presente concretamente che Lui ha ogni autorità sulla tua vita, sulla tua situazione, come ha dimostrato i Suoi discepoli. allora l'equazione è quando c'è la fede non ci può essere la paura. Questo è ciò che ci chiede il Vangelo di oggi. La paura certo che è naturale e che verrà sempre, ma se io vivo con questa fiducia, invocando lo Spirito Santo che è uno spirito di fiducia in Dio, allora allontanerò da me la paura e andrò da Gesù dicendo Signore io vedo la tempesta, vedo anche la morte, vedo la malattia, vedo la crisi, ma i miei occhi li voglio fissare su di Te e voglio credere che Tu hai la capacità oggi di allontanare questo male dalla mia vita. Spirito Santo donami oggi la forza e il coraggio di credere che Gesù è il Signore, che Gesù è Dio, che Gesù ha ogni autorità nei cieli e sulla terra, soprattutto nella mia vita. Grazie Signore Gesù perché sei il mio Re, il mio Signore, perché sei Dio e puoi cambiare la mia vita. A Te e l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi ce lo ha fornito proprio Gesù in questo Vangelo. Se segui Gesù perché hai paura? Invochiamo lo Spirito Santo che è uno spirito di forza e ci farà superare la paura. Amen. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Ciao.